Buongiorno a tutti. Dopo tanti video in cui vi ho parlato degli EPC effettivi pip count e vi ho raccontato come calcolarli, questa volta posso finalmente dirvi che oltre alla teoria li ho anche utilizzati in una partita. Quindi con un certo orgoglio vi presento questo video. Questa è la posizione, il solito match ai 13, siamo sul punteggio di 10 pari e ho dato un cubo un po' prematuro e in questa posizione di bear off me lo vedo tornare indietro a 4 per cui devo decidere se accettare oppure no. Allora essendo il punteggio 10 a 10 quindi 3 away 3 away e il cubo a 2 mano all'avversario come calcoliamo il take point? È un caso molto semplice. In caso di take entrambi i giocatori vanno a match, pertanto il take point è pari alle probabilità di vittoria in caso di pass. Quindi 1 away 3 away 25% come ci conferma xg. In realtà 24 e 92 ma insomma non andiamo a guardare i millesimi. 25%. La cosa più semplice sarebbe stata utilizzare le formule che vediamo che ci danno per la maggior parte un redouble pass tranne quella di torp che ci dà invece un take. C'è da dire comunque che le formule si applicano in partita libera money game quindi con take point intorno al 22%. Qui abbiamo il 25% per cui siamo molto più sul pass. Però per questo tipo di posizioni secondo me è molto adatta il calcolo con gli EPC. Infatti devo dire che non ho neanche calcolato usato la formula di kit ma sono andato questa volta direttamente anche perché la decisione era molto importante perché in caso di accettazione ci saremmo giocati il match in questo game. Per cui essendo una scelta importante ho deciso di fare il calcolo nella maniera che ritenevo migliore quindi calcolando gli effetti PIP COUNT. Si presta questa posizione perché è una posizione tra PIP e ROLL e abbiamo non più di 8-9 pedine per cui diciamo che possiamo utilizzare con una certa fiducia la formula di Matusek per stimare appunto l'Uestige. L'abbiamo già vista altre volte quindi andiamo abbastanza rapidamente. Calcoliamo prima gli EPC del nero, anzi l'Uestige questa volta. abbiamo 4 punti per 2 pedine sul 1, 1,3 per la pedina sul 2, 3,2 per le 4 pedine sul 3, 0,4 per la pedina sul 4, 0,2 per la pedina sul 5, per un totale di 9,1. Poi dobbiamo applicare le correzioni. Abbiamo una pedina sul 1 e abbiamo almeno 4 case occupate quindi sottraiamo 1 però poi dobbiamo aggiungere 1 invece per il pilone di 4 pedine sulla casa 3 per cui non ci sono correzioni da fare. Per il bianco invece abbiamo 4 per le due pedine sull'1, 0,8 per la pedina sul 3, 0,4 per la pedina sul 4, 0,4 per le due pedine sul 5 e 0,2 per le due pedine sul 6 per un totale di 5,8. a cui dobbiamo sottrarre 1 perché abbiamo il meno una pedina sull'1 e abbiamo 4 case occupate. Pertanto gli EPC del nero sono 25 che è il pip count a cui dobbiamo aggiungere 9,1 di Westige che abbiamo calcolato più il valore fisso, il solito valore fisso di 4,5 per cui arriviamo a un totale di 38,6 l'EPC del bianco invece dato pip count pari a 31 4,8 di Westige e 4,5 fisso per cui arriviamo a 40,3 con questi valori possiamo calcolare le probabilità di vittoria del giocatore al tiro nero che sono 50% più la differenza dei pip count anzi no scusate non dei pip count ma degli EPC quindi 40,3 meno 38,6 a cui dobbiamo aggiungere 4,1 che è il vantaggio del giocatore al tiro questo valore va moltiplicato per il coefficiente da calcolare in base alla tabella che vi ho fatto vedere altre volte che in questo caso è 3,9 interpolando a cui dobbiamo aggiungere uno 0,5 perché non è una pip position per entrambi ma è una pip roll quindi aggiungiamo questo 0,5 arriviamo a 4,4 il totale è 50% più 5,8 per 4,4 arriviamo intorno al 75,5% possiamo controllare la stima degli EPC fatta da me con quella di XG e vediamo che è molto molto vicina diciamo che 0,6 in più la stima mia ma per entrambi per cui la differenza è esattamente la stessa quindi 40,3 per il bianco mentre invece XG dà 39,7 38,6 per il nero e XG ci dà 38 quindi abbiamo detto che la percentuale di vittoria che abbiamo calcolato era quella del nero ma quindi quella del bianco è venuta sia pur di poco al di sotto del take point del 25% quindi la probabilità di vittoria del bianco è intorno al 24,5% come la democraio quindi il double del nero è fuori di discussione sicuramente correttissimo mentre invece molto probabilmente è corretto il pass certo con queste differenze non possiamo essere certi al 100% però possiamo ragionevolmente passare infatti questa è la decisione che ho scelto vediamo cosa dice XG XG ci dà una stima della vittoria del nero un po' più alta 76,3 contro 75,5 ma d'altra parte non possiamo pretendere di arrivare al valore esattissimo sarebbe assurdo ma diciamo che il riferimento è molto buono e quindi ci dice che è un pass di 54 millesimi che dire sono soddisfatto di aver applicato finalmente in partita questa metodologia sono soddisfatto di averla applicata correttamente di aver preso la decisione corretta un po' meno del fatto che poi comunque ho perso ho perso il match ma questo è secondo me un particolare abbastanza trascurabile siamo arrivati alla fine vi ringrazio per l'attenzione e vi do un arrivederci al prossimo appuntamento e vi do